Aggiornamento tecnico su Ikeam. Stiamo avendo un importante fallimento tecnico perché in questo momento basta che arrivino 30 persone alla stessa ora per fare la meditazione collettiva e il sito crasha, il server non ce la fa a reggere l'impatto. Quindi il nostro apporto energetico è già troppo forte per l'infrastruttura che abbiamo creato. Questo un po' è doloroso perché c'è stato tanto lavoro in questi mesi per creare le meditazioni guidate, ora stavamo per iniziare a diffonderle anche in inglese, però d'altra parte è anche la vita che ci dice guarda se volete andare in questa direzione dotatevi di un'infrastruttura adeguata perché quando cominciano ad arrivare non 30 ma magari 100, 1000, 10.000 persone tutte insieme hai bisogno di un certo supporto a livello tecnico. quindi se c'è tra di voi uno sviluppatore esperto in WordPress che ha voglia di darci una mano volontariamente soprattutto per l'ottimizzazione del sito e per capire di che tipo di infrastruttura dovremmo dotarci è il benvenuto a contattarci. In questo momento io sto lavorando con uno sviluppatore freelance all'estero però fa solo delle cose sporadiche e poi comunque sono lavori costosi da portare avanti, abbiamo bisogno di una persona che ha voglia di aiutarci a capire la direzione che sia vicino con cui possiamo comunicare bene e che naturalmente ci offre il suo lavoro a livello volontario almeno finché IKEA non riesce a sostenersi economicamente. In ogni caso noi continueremo a fare le nostre meditazioni che sono già su YouTube, troveremo un'altra soluzione, le faremo magari sul portale di Accademia Infinita che vedo che resiste meglio all'impatto delle visite delle persone, quindi una soluzione la troveremo. Sicuramente la diffusione delle meditazioni anche in inglese andrà un po' più avanti nel tempo, dobbiamo capire come muoverci. Potete tranquillamente visitare il sito di IKEA come sempre, il problema si pone solo quando c'è una meditazione collettiva e quindi arrivano tante persone tutte insieme esattamente alla stessa ora. Per ora vedo che il sito regge con le visite che abbiamo normalmente, insomma, non andiamo mai oltre le 3-400 visite al giorno, però diffusa nell'arco della giornata. La meditazione collettiva di ieri sera giovedì di IKEA, per chi di voi l'ha fatta è stata molto speciale, alcuni mi hanno scritto, hanno percepito questo, comincia a crearsi questa sensazione di fare parte di un unico corpo a livello fisico, proprio non solo a livello mentale come idea, ma la sensazione fisica di fare parte di un... a me appare come un... quasi un frutto di cui noi siamo i semi o comunque una pianta di cui noi siamo i boccioli, una cosa del genere, per altri magari è più la sensazione di essere cellule di un corpo. In ogni caso è bellissimo che cominci a crearsi questa sensazione, c'è questo senso di unità. Io ieri sera, nello specifico, sono stato semplicemente lì in ascolto a godermi questa sensazione senza fare niente di speciale. Credo che questo... stimolare questo tipo di stato di coscienza sia la cosa più importante di tutti nelle meditazioni collettive che stiamo facendo. Qualcuno di voi mi dice ma io non ho voglia di fare sempre la stessa meditazione, quella per la pace, quella per Madre Terra, non ho voglia di seguire sempre la stessa meditazione guidata, ma non è questo il senso delle meditazioni collettive. Voi potete connettervi in quel tale giorno, a quell'ora e meditare come volete su quel tema o addirittura su un altro tema, se proprio quel tema vi è indigesto. L'importante è stimolare quest'idea di connettersi insieme in un campo comune di frequenza e quindi cominciare ad apprendere anche fisicamente cosa vuol dire meditare in quel modo invece che meditare in modo isolato. Quindi sentitevi liberi di meditare come volete in quei momenti. È chiaro che io metto a disposizione delle meditazioni guidate perché alcuni li apprezzano, sono d'aiuto, però quello è solo un'idea, è solo uno stimolo, è solo un aiuto. Potete benissimo connettervi a quell'ora e meditare nel modo che preferite. Ora mettiamo a disposizione comunque anche dei video di sola musica che durano quanto la meditazione guidata. Quindi per chi vuole, per chi magari non ha della musica a disposizione, potete usare anche quella invece della meditazione guidata. In ogni caso stimolare la sensazione fisica di essere uniti, di sentirsi parte di un unico corpo è la cosa più importante. Io la sto percependo sempre di più in questi mesi. Negli anni passati era più una sensazione mentale, un'idea di far parte, di meditare insieme. Ora sta diventando qualcosa di fisico. Per come la vivo io cos'è che accade quando diventa una sensazione fisica? Che comincia a diventare di più una realtà perché tu la riconosci a livello sensibile dei tuoi sensi fisici. Allora ad esempio il livello di egoismo con cui vivi comincia a calare perché non ti è più possibile agire in modo egoistico quando cominci a percepire fisicamente gli altri come parte di un frutto, di un organismo di cui anche tu sei parte. È chiaro che ognuno di noi ha un suo sano egoismo, una sua sana individualità. C'è sempre questo equilibrio, non bisogna annullarsi. Però sì, è più facile lasciare andare quel senso di devo pensare a me, devo pensare al mio orticello, cosa ci guadagno io. Certo, in una certa misura quella dinamica continua a esistere perché tu hai bisogno di sostenere il tuo corpo, la tua vita, la tua famiglia, il gruppo di persone fisiche più vicine a te. Però sempre meno, c'è sempre più un'idea io sono cellula di un corpo più grande quindi vado a sostenere quello. Ecco, lavorare con le meditazioni collettive secondo me aiuta tantissimo a sviluppare questo tipo di coscienza proprio perché fisicamente si comincia ad avere la sensazione di vivere a quel livello, di percepire quel livello di fisicità. Poi ai Chiam, per finire un po' questo aggiornamento, in questo momento in cui tutto è fermo, in cui tutto sembra congelato intorno a noi, nel mio sentire si sta sempre più muovendo verso l'idea di creare un luogo fisico, inizialmente magari un centro olistico, dove possiamo creare delle giornate, dei momenti di ritrovo, dove possiamo cominciare a incontrarci fisicamente, sicuramente qui in Toscana vicino a dove viviamo io e Massimo. Ne abbiamo parlato altre volte ma in questo periodo lo sentiamo entrambi sempre di più come la prima direzione in cui andare, quindi non appena ci sarà possibile anche a noi muoverci, cominciare ad andare a vedere dei luoghi, questa è un po' la direzione in cui andiamo e stiamo lavorando anche a livello di coscienza per manifestare risorse per questo progetto, quindi chi di voi si sente più vicino ad i Chiam, chi si sente più in risonanza con tutto quello che ho comunicato e che viene comunicato anche da altri attraverso il forum, vi invito ogni tanto a connettervi con l'idea di aprirvi alle risorse. Anche qui aprirsi alle risorse non vuol dire solo manifestare denaro, vuol dire manifestare tempo libero, manifestare occasioni, manifestare talenti, manifestare relazioni, opportunità, manifestare la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto, quindi manifestare un flusso di sincronicità. Quindi l'idea è che chi di noi si sente più vicino in questo cerchio, chi di noi sente di far più parte di questa famiglia, comincia a dedicare del tempo, a richiamare, a risuonare, ad aprirsi alle risorse, alla possibilità di poter canalizzare risorse in questo progetto. Naturalmente se uno canalizza molte risorse, queste risorse arrivano anche a quella persona, se uno veramente si mette a disposizione, io l'ho sperimentato in questi ultimi anni, in cui in pochissimo tempo sono riuscito a mantenermi comunque facendo proprio questo, canalizzando la mia passione. Se uno canalizza risorse per un progetto, se uno si pone veramente come canale, poi quelle risorse passando attraverso fisicamente quasi l'energia di quella persona, permettono a quella persona di aumentare il proprio livello di abbondanza nella vita. Questo è un meccanismo che io vedo continuamente, però va fatto in modo comunque privo di aspettative, va fatto in modo disincantato, perché se ci si aspetta subito qualcosa in cambio si creano dei meccanismi poi molto contorti. Quindi noi ci stiamo già sedendo a volte insieme o singolarmente con l'idea di riaprirsi sempre di più e di essere disponibili alle risorse. Questo mi stimola anche a fare un altro tipo di riflessione, e cioè il fatto che il fatto di manifestare abbondanza per un certo progetto, per un certo, per una certa idea che noi abbiamo, per la nostra vita in generale, è anche un atto di coraggio, perché quando arriva quell'abbondanza, quando arriva quel flusso di energia, aumenta anche il flusso di cambiamento della nostra vita. Quindi ci è richiesto di allinearci a quell'accelerazione evolutiva. L'arrivo di una grande abbondanza, l'arrivo di molte risorse, non è necessariamente una benedizione se non si ha la capacità e l'energia per digerire, per manipolare, per gestire quell'abbondanza. Può essere fonte di stress. Ecco perché anche spesso, secondo me, dal punto di vista spirituale, il nostro sé superiore può trattenere delle cose. Magari noi siamo molto nella richiesta, ma invece sentiamo che ci vengono centellinate delle risorse o delle esperienze. Chiediamoci in quel momento se abbiamo veramente il coraggio di accettare tutta quella nuova energia, accettare il cambiamento che viene con quella nuova energia, perché spesso mi sono reso conto che nella mia vita la dinamica era un po' questa, il chiedere molto, ma il poi non avere veramente la volontà di fluire in quel cambiamento. Quindi poi magari sì, quella grande manifestazione di risorse arriva e diventa fonte di stress. Pensate cosa accade a volte a chi vince la lotteria, per tornare terra a terra sul piano dei soldi. Si sconoscono tantissime storie di gente che vince la lotteria e la loro vita viene completamente sconvolta in peggio, molto spesso. Ora qui c'è il tema del denaro, che quindi tira fuori anche il peggio dalle persone che sono vicine e che ha vinto la lotteria. Però l'idea è quella che quando arriva un flusso di cambiamento così forte, sotto forma di risorse, tutto cambia e bisogna avere i muscoli, il cuore e la volontà di affrontare quel flusso di cambiamento con integrità. Tanto più in un progetto collettivo come questo di IKEA. Quindi a volte io mi rendo conto che se sento che le cose stanno muovendosi piano piano, che non arrivano molti aiuti e che comunque questo è comunque allineato a certe mie resistenze, anche a una mia volontà di che tutto si muova molto gradualmente, senza troppa accelerazione. Perché in passato invece ho spinto molto certi progetti, mettendoci molto della mia volontà, che poi però sono finiti per crollare, per collassare su se stessi, proprio perché non c'era una crescita organica. Quindi solo per tenere presente tutto ciò che nel momento in cui chiediamo più abbondanza, più risorse per un progetto collettivo come IKEA, ma certo queste risorse arrivano anche a noi personalmente nella vita, specialmente a chi si dedica di più a nutrire un progetto di questo tipo, però è importante che abbiamo l'integrità e il coraggio di gestire quel flusso di abbondanza. Quindi continuamente mettersi in check, fare un test con se stessi, vedere dove siamo a livello di abbondanza e di integrità. Ecco, questi un po' gli aggiornamenti che volevo darvi su IKEA, ma noi stiamo continuando a fare le meditazioni collettive comunque settimanalmente, vi lascerò il calendario come sempre anche qui sotto il video. Le faremo probabilmente su Accademia Infinita a questo punto o direttamente su YouTube o su Vimeo, non lo so, troveremo una soluzione tecnica per non dover andare sul sito tutti insieme a quell'ora, purtroppo, perché ora era diventato molto bello perché avevamo messo dei contatori che ci mostravano quanti eravamo ogni volta, quindi stava diventando un luogo di interazione, però intanto se cerchiamo una soluzione tecnica continueremo a farle attraverso altri canali. Un abbraccio!